Prosegue senza sosta in Confindustria Abruzzo Medio Adriatico l'organizzazione della grande evento che si terrà in concomitanza del G7 sulla cooperazione internazionale in programma a Pescara il 23-24 ottobre. Si tratta del B7 che Confindustria Italia ha voluto affidare alla città di Pescara e che si svolgerà nel periodo ridosso della G7 nella sala consigliare del comune. Nei giorni scorsi un primo sopralluogo di una delegazione guidata dal direttore generale Luigi Di Giuseppe Fatte per un evento destinato a rappresentare un momento cruciale per delineare le strategie future delle imprese, favorire collaborazioni internazionali e rafforzare il ruolo dell'Italia nello scenario economico globale. Un'opportunità per Pescara, per l'Abruzzo di ricevere le delegazioni industriali delle Confindustria delle nazioni più importanti del mondo e che discuteranno sul futuro dello sviluppo globale dell'economia e dei territori. Sono tanti i temi come abbiamo visto, si parlerà ad esempio anche di intelligenza artificiale. Sì, intelligenza artificiale e centralità dell'uomo, si parlerà anche di cooperazione internazionale, tant'è che ai G7 di Pescara ci saranno 25 delegazioni del mondo anche di quelli e diciamo degli stati africani che potranno portare anche la loro voce su questo tavolo. Confindustria Italia ha scelto Confindustria Medio Adriatico per ospitare questo importante appuntamento, ecco può essere anche un'occasione, un'opportunità per le realtà imprenditoriali e locali? Sì, il B7 che è presieduto appunto da Emma Marcegaglia ha in qualche modo individuato le città che hanno ospitato i G7, quindi la grande fortuna di avere questo G7 in qualche modo ha richiamato l'attenzione, sollecitata naturalmente da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico della Casa Madre che in qualche modo come Confindustria ha ritenuto sia una diciamo puntata importante quella dei G7 di Pescara dove in qualche modo anticipare il B7 nei giorni immediatamente precedenti questo evento che si svolgerà appunto il 23 e il 24 ottobre 2024 significherà per noi portare l'attenzione dell'economia globale sul nostro territorio.